Alla love! Alla belle, alla belle, ciao, 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 ciao! Allora, questo è il video che vedrete un altro prima. Sulle labbra prima c'avevo l'Asian Touch, che è fantastico, c'è troppo morbido, troppo bello, ma non dura una sega. E quindi mi sono messa invece, praticamente, l'Asian Touch non è altro che questo. Stramorbidi, strafighi, ma non durano, sulle labbra non durano. Mentre poi siamo usciti con Pippets, mi sono data questo, perché comunque era leggermente dello stesso colore e ce l'ho da Dianzi. Sì, se era un po' costato qui, l'ho ritoccato un attimo, però il colore è top. Però questi seccano un po' di più. A me non seccano tantissimo, però... Anche perché per il prezzo che hanno è tutto abbordabile. Allora, questo è un video un po' così, no? Avete visto i miei video che ti vedo, di ora lo faccio? Perché sono andata con Pippo a comprare la lametta per la Ubalda. E quindi ho detto, vi dovevo dire 3-4 oase, quindi ho detto faccio un video. Vi voglio anche far vedere questo. Questa mano però, ho le unghie più corte, quindi ti fa cagare. C'è solo i pollici che mi reagano di brutto. Questo qua è uno smalto che ho ritrovato oggi. Mi sono messa con la mia mamma. Meno male Filippo ha qui sopra l'astuccino, perché all'interno ha un... Cioè posso fare un appuntalapis, che mi appunta decentemente le matite d'occhi, perché quell'altro me le hafonano tutte. Cioè non le appuntano, praticamente in discorso è ben presto fatto. E allora finché non trovo il coso di Pippo, io non posso appuntare le matite. Voi mi dite ricompralo, esatto, penso che lo ricomprerò. Anche se ne ho 3-4 in casa e non capisco perché mi uccidono tutte le matite. Cioè questo trucco mi sta durando da stamani mattina. Io che vedevo di... Allora, eh. E quindi che vi stavo a dire? Ah, il semi permanente. Quindi, innanzi, io e la mia mamma ci siamo messi un po' in attrafficcare in garage. E ho ritrovato i vecchi semi permanente, ma aveva mandato la Madame Glam. Che so, fantastici. Me lo so provato mo' e finalmente non dovrò stare a risistemarmi le unghie tutti, giorni o ogni settimana. Ma mi durano un mese. Vi faccio vedere... Allora, l'avevate già viste. Perché naturalmente, quando abbiamo preso la... Insomma, sono andata a vivere da sola qua lì. La roba, vedete? Sta abbastanza bene, anche se è stortissimo. La roba che avevo in camera è stata messa dalla mia mamma e da Pippo in degli scatoloni. E quindi, mano a mano, adesso abbiamo tolto gli scatoloni e devo un attimino... Avete capito? Quindi, mi mandarono cinque colori, naturalmente facendomeli scegliere. E io ho preso tutti i matt. Cioè, matt, comunque quelli... No, che cazzo dico, niente. Allora, io mi sono data questo, che è il Night Time Move, che ha questo colore qua. Ed è fantastico. Il prodottino l'è questo. Poi c'ho, sempre sul violetto, il Hey Honey, che è questo viola qua. E poi c'è il grigio, Call of the Wild. Ora poi vi spiego un'altra cosa. E poi ci sono questi due estivi, che ho preso il verde acido e il pesca. Il verde è Dusty Pastel Green. Esatto, colori pastello, esatto, grande. Amy, ce la può fare. E... E questo è un ciappelletietta. Vabbè. Non ci frega niente. Allora, il buono di questi prodotti cos'è? Che praticamente io non avevo primer, non ho messo primer e niente, nemmeno il top coat finale. Ho soltanto limato l'unghia leggermente pochissimo, perché comunque, a parte le mie unghie sono talmente dure che le potrei limare anche con una lima da... Non ricordo come si chiamano le lime se... La S80. Non me le ricordo. Però le potremmo limare tantissime, le mie sono... De vero. Quindi gli ho dato una leggera limata con questo per farle diventare leggermente porose. E ho dato soltanto lo smalto, che diventa poi secco. E comunque, vedete, certo se ci dai un top coat... Un top coat luminoso... Ora è bello perché l'ho fatta adesso, magari fra una settimana poi diventano paio, però... Chissene, almeno ho le mani sistemate. Allora, veniamo alla Ubalda. Allora, sono andata a cercare le benedettissime ricariche per... La lametta per la Ubalda, perché come sapete... Io, come sapete, penso, ve l'avrò detto, ma insomma... Io mi faccio la ceretta ovunque. Quindi ascelle, gambe, braccia, pancia... No, vabbè, la pancia dipende. Però qualche volta faccio la ceretta pure lì. Qui mi fa la ceretta. Insomma, mi inceretto dappertutto. L'unica che faccio con la lametta è la Ubalda. Perché la Ubalda è sempre stata fatta con la lametta. C'è stato un periodo che la facevo con la ceretta, quella vecchio uso, che oramai non è neanche più legale. Che ce l'aveva quella dove lavoravo. Che praticamente metti direttamente la ceretta e strappi direttamente la ceretta. Ributti tutto lì dentro. Però era l'unica che almeno mi faceva un po' meno male. Perché io con la ceretta non reggo. Perché ciò, avendo sempre... Quanto sarà? Io ho cominciato a fare mia ceretta alla Ubalda, che avrò avuto 15 anni, non 32. Quindi fate i vostri monti. E ho delle barbe così. Quindi ho dei peli straneri. E quindi farò il laser. Perché so che funziona specialmente ed è più efficace con i peli neri. Quindi per me non è che è efficace. È efficacissimo. Quindi penserò anche a quello. Comunque la mia lametta per la Baugigi è questa. Cazzo, non vi ho preso le altre. Aspettatevi. Addio. Ora. Questa è la vecchia lametta che avevo io. Che aveva le testine intercambiabili. Una testina come questa a me mi dura un botto. Cioè perché rasando solo la Ubalda mi dura un sacco. E ancora questa è da utilizzare comunque. Perché si deve... Almeno io la uso così. Fino a che... Oddio questa sta andando a farsi benedire. Finché questa riga qui celeste è sempre lì. Perché uso questa? Perché è l'unica lametta che non mi fa tagli esagerati. Non mi prude dopo quando mi ricrescono. Io che cacchio fanno queste lamette non lo so. Fatto sta che è l'unica lametta che riesco a usare. Perché? Avendo ricomprato pure queste qui del Conad. Che so sempre da donna perché sono Venus e qualcosa. Usa e getta. Che comunque hanno una lametta così. Cioè a me mi fanno un danno esagerato. Le uso una cacchia di volta. Quindi uso e getto. Però... Boh, c'hanno pure la testina mobile. Vedete? Però sono tremende. Io quando mi ricrescono sembra che abbia le pulci. Perché... Ecco. È tutto un grattassi. Chi si rapa mi capisce. Che non si può. Proprio non si può. È la cosa più indelicata del mondo. Cioè... E poi non resisti. Cioè te devi grattarli. Me l'ha detto un sacco di volte. A cammini. Però a Nini non resisti. E quindi queste le tengo sì proprio per evenienza. Quindi andiamo alla Conad. Perché c'è sempre stato le testine intercambiabili. Anche se costavano una balla. Però c'è sempre stato. Io ho una vita ora che non le ritrovo. Questa ce l'avevo. Porca puttana. Quattro o cinque testine. Anzi forse me ne erano rimaste due. Non le ritrovo. Perché dal trasloca qua naturalmente le cose sono scomparse. Quindi mi è rimasta solo questa. Quindi vado. Pippuppa. E non niente. Nemmeno a Stacop. Nei Massetana. Nei Alapam. Ne... E allora... Quindi stasera volevo le altre testine intercambiabili. 12 euro. Tre testine intercambiabili. 12. Quindi cosa ho preferito fare? Prendere questa qui. Urlo che è come una pazza. Io non capisco perché. Ho preferito prendere questa qui. Pagata 8 euro. Anche questa ha le testine intercambiabili da 12 euro. Però... Cristo almeno le trovi. Ora... La cosa che io ho pensato. Probabilmente è uguale a questa. Però a sto punto mi sorpresa. Questa da 8 euro che mi dura un mese più. Poi staremo a vedere. Ne hanno fatta pure un'altra. Con queste qui particolarmente grandi. Rosa. Non so se l'avete vista. Questa è... Un rasoio con 5 lame. E siero idro. Attivabile. Per una rasatura ravvicinata. Anche qui mi ricordo che... Siero. Serium. Mi ricordavo infatti che anche questa rilasciava qualche tipo di olio. Esatto. Vedete com'è questa. Di modo che la obalda te la... Spennelli come te pare. 5 lame. Vabbè vediamo un attimo. Perché io non l'ho ancora aperta. Perché volevo vedere se era... Quant'è che era quella coppia che c'è la polvere alta. Ora si va a mangiare. Ecco brava. Infatti ora che ci ho drusciato particolarmente il dito. Vedete. E' molto meno luminoso. Vabbè ma chi se ne frega di essere bello. Anche perché poi c'è il spiattello, il top coat della Hilo. E chi si è visto si è visto. Più che altro poi mi dovrò prendere... Questo manca una passata. Per toglierlo. Perché non lo levi con l'acetone normale credo. Allora. C'è 8 euro di lametta. Che è d'oro. Come quella che aveva preso Aline che pigiava i piedi e... Vibrava. Non voglio fare battutacce. Visto l'aveva già fatta lui la battutaccia. Anche quella l'ha pagata sui 25 euro di lametta. Vabbò. Comunque la lametta è costei. La mia obalda farà i salti di gioia. Perché... Oh bellissima questa cosa. C'era anche per questa qui. Questo è l'aggeggino che voi attaccate nella doccia. E ci attaccate la lametta sopra. Cioè non è che ce l'attaccate. Però così. Capito? Voi ci mettete la lametta e sta così. Ok? Allora la lametta è costei. C'ha questo impugnatore di gomma. Che se le cacci non tasca. Perché c'è... Non ce fai una sega praticamente. Però vabbè. È tutta unita. Tutta di plastica. Questa era molto più bella. Però vabbè. E anche questa, vedete, ha il cosino intercambiabile. Adesso vediamo se a volte riuscissimo a mettere le altre. No. Infatti i bastardi negri. Scusate non è una cosa offensiva. Però era... Ma è venuto da dirlo nel senso. Vedete? Questa c'ha un beccuccio e questa ce n'ha tre. Maledetti! A volte tu ci mettessi quell'altra. Sapevo tanto. Comunque. Vabbè. Quindi questa è la nuova amica dell'Ubalda. Speriamo in bene. Che tutto si risolva. E che se visto se visto. Allora, questi puntini dovrebbero... Questo è morbido. Vabbò. Insomma, come... Ah, e vi dicevo, c'è quell'altra che... C'ha quelle due pocce, parlando di Ubalda, pocce, mazze e cazzi. Quello lì, grosso, fatto così. Boh. Comunque. Anche quelli costano una balla, però. Ah, ragazzi. Per l'Ubalda dobbiamo fare questo. Come si attacca? Però... S'arriva! Vai, Pippo, avviati. S'arriva! Boh, non mi ci sta molto bene attaccata, però. Quello è... Io non lo so come mai. Ecco, forse così. Nell'altro era più bello, tutto sofisticato. Addirittura, questo... Ah, hanno detto tutti che sei tanto bello, eh. Eh, mamma mia. C'era la cosina di plastica, fatta così, con lo sportellino, che sopra ci mettevi questa. E all'interno, cioè, avevi tutte e tre o quattro che erano le lamette, cioè... Una signora l'Ubalda. Va bene. Vi informerò di come sarà questa cosa per l'Ubalda. Io vado a mangiare, avevo voglia di parlare un po' con vosotros. Quindi, ve mando un Ubage. Fate le brave. Oggi dovevamo fare il video con la Leda, ma la Leda purtroppo oggi aveva avuto un po' di disturbini. Ve la ho, non ve preoccupate. Eccola. Non ve preoccupate che ve l'ho promesso. Ve lo faccio. Ciao, baby love. Ciao, ciao.